ma cos'è come andrà d'ora in poi state indietro cosa indietro scherzi della mia base non è una base è un notevole impianto segreto mi piace lo prendo voi ragazzi siete stati sollevati dall'incarico non prendo ordini da te non l'ha detto valeria sto iniziando a chiedermi che altro non so sulla tua affiliazione con un boss della droga cosa cazzo mi hai detto per te stai esagerando non farlo non parlo e nessuno si farà male ci stai minacciando soldato io non minaccio io garantisco quindi non fatelo chiamo shepard il generale shepard vi saluta sapeva non l'avreste presa bene sa di questa storia mi ha messo a capo di questa operazione da adesso in poi perciò fatevi da parte e lasciate che ci pensino i professionisti perché ne stiamo parlando come fosse una trattativa non dov'è io ho i miei ordini e voi i vostri e tu chi cazzo pensi di essere cabron i miei sono là dentro temo di no i tuoi uomini sono in arresto che cazzo fai forza johnny muoviti mi senti ghost è stato un errore fratello non doveva andare così perca troia trovateli proscri proscri Grazie a tutti.